È stato definito l'accordo per la rinascita del buco nero di Mestre, l'area dell'ex Umberto I. In realtà la firma è stata solo a metà, la società di imprenditori Trentini ha infatti firmato il protocollo, ma il sindaco Orsoni dovrà aspettare il passo obbligato della discussione con la maggioranza e la giunta comunale. Ma ormai l'accordo sembra raggiunto, il sindaco auspica che l'ok del consiglio e la firma nero su bianco avvengano a fine estate e poi si darà avvio alla cessione, che richiederà in tutto circa 8 mesi. L'accordo soddisfa il comune, che contrariamente al progetto iniziale, oltre all'area verde di 16.000 metri quadrati, mantiene la proprietà di tutte le strutture esistenti, i tre storici padiglioni Dezzotti, Spozan e Cecchini, oltre all'ex dispensario dell'ospedale, l'ex casa delle suore e la piccola chiesetta. L'idea dell'amministrazione comunale è di trasformare le strutture ora vuote in istituti scolastici, luoghi di formazione ed uffici pubblici, e sembra ormai sicura l'idea già paventata da tempo di trasferire in uno dei padiglioni la scuola elementare Veccellio di Parco Ponci, che godrà inoltre di un ampio giardino per gli alunni. Sono tutti ottimi i progetti, ma la difficoltà sarà trovare finanziamenti e risorse da investire. Il comune, una volta concluso le trattative e ampliato il patrimonio comunale, dovrà infatti rimboccarsi le maniche per trovare i fondi nelle casse pubbliche già leggere. Dal canto suo, la società DNG ha avanzato qualche pretesa in più rispetto alla proposta originaria, ottenendo di rendere il progetto costruttivo più flessibile. Le tre torre alte 100 metri rimangono nelle idee degli imprenditori, che avranno però un 15% in più di cubatura e aumenteranno la parte commerciale e direzionale a discapito di quella residenziale. Infine, la DNG ha intenzione di costruire anche un albergo, che occuperà quasi 9.000 metri quadrati. Insomma, sembra che il buco nero del centro di Mestre verrà ampiamente riempito e rivitalizzato. Non resta che attendere l'autunno.